Ancora verifica dopo le lingue di fuoco che domenica notte hanno avviluppato la storica ditta di trasformazione dei rifiuti, la Nappi Sud di Battipaglia. Una corona di fuoco divampata dall'esterno che avrebbe inghiottito lo stabilimento nella zona industriale battipagliese. Sarebbe questa la pista emersa dai primi rapporti dei vigili del fuoco che hanno inviato l'autorità giudiziaria. Le fiamme non sarebbero partite dunque dall'interno ma generate dall'esterno alle spalle dell'enorme stabilimento di raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Cosa si cieli dietro questa ipotesi lo chiariranno gli investigatori che attendono il rapporto finale dei vigili del fuoco. Gli inquirenti proseguono nel loro lavoro per fare piena luce su questo ruoco ancora una volta nella città di Battipaglia.